Giovani donne sulla strada tutta la notte, prostitute che sono l'obiettivo di rapinatori senza scrupoli che in un caso hanno aggiunto la violenza sessuale al reato predatorio. Questo espone le ragazze a tutti i rischi del caso, tra cui rischio di violenza sessuale, rischio di rapine, come in questo caso, in cui questi due soggetti, tra l'altro piuttosto giovani, un siciliano del 92 e un bresciano dell'80, si sono resi responsabili di ben tre rapine, una tentata rapine e una violenza sessuale in danno. Un trentenne bresciano, Massimo Presolana ed il suo coinquilino, il siciliano Innocenzo Luca Floridi, a 19enne, hanno messo a segno quattro colpi tra il 16 settembre ed il 7 ottobre nella zona tra Sante Eufemia e Rezzato. Vittime quattro lucciole, due rumene, una ucraina e una albanese, tutte poco più che maggiorenni. In particolare il modus operandi, perché avvicinavano le ragazze fingendo di voler contrattare per un rapporto e nel momento in cui si appartavano dal bagagliaio saltava fuori il complice dell'autista e poi si compiva la rapina. Alcune delle vittime hanno sporto denuncia segnalando dettagli della vettura e alcuni numeri della targa, dati che hanno permesso ai carabinieri di riconoscere la vettura sulla statale Padana Superiore, mentre i due, secondo i militari, stavano cercando un'altra vittima.